Il premio Estra per lo Sport Il premio Estra entra anche nella cogenerazione e nel teleriscaldamento. Estra ha acquistato con un milione la centrale Termas di Ancona che sprigiona una potenza termica di 19 megawattora ed elettrica di 3 megawattora. 4.500 bambini di 179 classi partecipano alla terza edizione di Roar Risparmia Ricicla Rugisci, il progetto di educazione ambientale ideato da Straligut Teatro con Estra.